Il titolo è Come on Baby ed è il presepe contemporaneo di Mimo di Dio e Raffaele Cutillo a cura di Vincenzo Mazzarella, inaugurato proprio il giorno dell'Immaculata della Sala dei Fasti Farnesiani a Palazzo Reale. Ma perché Come on Baby? Allora, Come on Baby è un'opera d'arte, o meglio, un presepe contemporaneo che come principio è stato voluto fortemente da Vincenzo Mazzarella qui alla Reggia che ha invitato Mimo di Dio a rielaborare questo principio dell'anattività in termini contemporanei. Di rimando Mimo mi ha chiesto una mano alla pulizia dell'allestimento e insieme abbiamo pensato uno spazio che contenesse la sua scultura all'interno di questa sala spettacolare che è la Sala dei Fasti Farnesiani. Il riferimento ovviamente è l'antro arcaico, un limbo, una sorta di ventre materno che contiene l'anattività però questa volta moltiplicata n volte e non specifico 20 volte a significare anche la moltiplicazione delle razze, delle culture, dei riferimenti della società e non l'unicità assoluta divinizzata. Quindi è una sorta di museo che contiene questa volta un presepe contemporaneo e umanizzato finalmente. L'inaugurazione avverrà il giorno 8 dicembre alle ore 17 qui nella Sala dei Fasti Farnesiani e la mostra sarà aperta per un mese fino all'8 gennaio e speriamo anche di prorogarla se ci danno l'occhio. Come on, come on, come on, come on, come on, come on baby. Grazie.